E' stato lo spettacolo della band di Greg Ed Frigidaire, andato in scena ieri sera a Palazzo Ducale, a far calare il sipario sulla ventunesima edizione del Festival Castel dei Mondi. Il modo più divertente di celebrare l'arrivo al traguardo di una lunga maratona che dal 25 agosto scorso ha trasformato la città di Andria in un gigantesco palcoscenico calcato da artisti e compagnie nazionali ed internazionali. Una serata all'insegna del rock'n'roll stile anni 50, condita da brani swing e blues, con pezzi ironici e spumeggianti che hanno coinvolto il pubblico nell'ultimo appuntamento della manifestazione. E' proprio la passione per il rock'n'roll di oltre mezzo secolo fa, è la base da cui i Frigidaire partono per creare un'esperienza musicale attuale, riadattando ai giorni nostri le sonorità del genere. La band nasce dalle esperienze condivise in 25 anni di concerti sui palchi di tutta Italia e attraverso diverse formazioni. Quella attuale, con quattro provati musicisti professionisti, accompagnati dalla simpatia e dal sarcasmo di Claudio Gregori, attore, performance e cantante conosciuto al grande pubblico per le sue geek televisive e cinematografiche nel fortunato due comico di Lilloo e Greg. La vera guida spirituale di un gruppo che non si presenta come semplice cover band, proponendo in concerto e sui dischi composizioni originali e rivisitando classici del genere. Il segreto per sprigionare quell'energia che sta portando il loro live set in giro per l'Italia. L'ultima tappa è stata quella di Andrea in occasione dell'ultima grande festa in programma al Festival Castel dei Mondi, per un saluto che suona già come un arrivederci alla prossima edizione.